Allora, quindi è il momento più atteso di tutto PIF 2018, siamo giunti alla premiazione della categoria premio, quindi vorrei chiamare qui sul palco le tre figure che mi hanno accompagnato in questi giorni, quindi l'assessore alla cultura Ruben Cittadini, il direttore artistico Renzo Ruggeri e il sindaco della città di Castelfidardo, Roberto Ascani. Siamo giunti veramente al fatidico momento, una scenografia più bella di questa non c'è, tra luci, grafica e musicista, insomma non si poteva chiedere di meglio. Grazie, grazie, troppo buoni. Allora, ci siamo, siete pronti? Allora, al terzo posto, third place goes to Augustinas Rakauskas. Congratulations. Vince forse di studio e trofeo artistico, he wins a scholarship and artistic trophy. Quindi, allora, chiedo all'assessore di consegnare il premio, o comunque adesso uno vale l'altro, insomma, siete tutti della stessa importanza. Thank you, Augustinas. Congratulazioni and good luck for your future. Ok. Sì, chiamiamo Renzo per consegnare il premio al secondo classificato. Second place goes to Radu Ratoi. Congratulations. He wins a scholarship and an artistic trophy, vince il borsa di studio e il trofeo artistico. A premiare il nostro direttore artistico, Renzo Ruggeri. Thank you. Thank you very much. E naturalmente, come avrete tutti capito, a vincere la categoria premio PIP 2018, the winner is Subnikov Vladimir. Congratulations. Anche un grandissimo PIPO dalla platea e anche dall'orchestra, vedo. Pensate che Vladimir vince. Borsa di studio e trofeo artistico e cinque concerti premio. He wins a scholarship, an artistic trophy and five concerts in Mon, Belgio, Kragunjevac, Serbia, Alcobasa, Portugal, Rostov, Russia e Vignus, Lithuania. Thank you very much. Don't leave the stage. Perché allora ci sono anche due altri premi da consegnare, un premio speciale Accordance Worldwide e quindi io chiederei al signor Harley Jones di raggiungermi sul banco. There is another special prize for the winner of Premio Category. Okay, a warm applause to Harley Jones, who is the founder of Accordance Worldwide and he wins a scholarship of 500 euros. Congratulations. Molto meritato, dice. Thank you, Harley. Please stay here because, okay? And then you win also another prize. Un altro premio speciale è il Luma Suite, una custodia per fisiarmonica di nuovissima generazione in fibra di carbonio. Quindi chiederei al signor Maider Camarero Superregui. Signora, scusate. So I would like to call on stage Maider Camarero Superregui, amministratore di Luma Suite. Oh, that's great. So, yeah, he wins an accordion case in carbon fiber. Thank you very much. This is a beautiful present as well. Congratulations. Allora, ci siamo, quindi grazie mille. Io vorrei lasciarvi così con tutta questa popò di gente, quindi vorrei ringraziare ovviamente le istituzioni, le organizzazioni, la prologo, i giurati, i musicisti, ma naturalmente tutti voi che avete partecipato così numerosi a questa edizione di PIF 2018. Ok, colgo l'occasione, visto la platea, visto l'importanza di questo momento, per ringraziare una persona speciale che è tutto il Comune di Castelfilardo. Io ci ho lavorato negli ultimi due anni, è stato un supporto immenso, una persona fondamentale per questa amministrazione, ma soprattutto per il premio, che su 43, che se ne sono svolti, 43 edizioni, 42, ci ha lavorato. Io farei un applauso a una signora importantissima, che si chiama Giuliana Guerrini. E ci vediamo, anzi, forse la vedremo anche in piazza per un altro saluto. Grazie a tutti. Grazie a tutti, un buon proseguimento di PIF 2018 e ci vediamo a PIF 2019. Ciao a tutti. Goodbye to everybody and see you PIF 2019. Grazie a tutti.